La tenacia di chi non vuole arrendersi alle difficoltà, la voglia di continuare a credere nella sua terra e di voler restare. Ieri sera al 58 a Trinità di Sala Consilina si respirava aria di feste e di divertimento, ma anche la grande passione che Luca Gallo, giovanissimo titolare del Lounge Bar, impiega nel suo lavoro e nella voglia di non mollare, nonostante le innumerevoli difficoltà che dall'apertura del suo locale ha dovuto affrontare, ritrovandosi a dover combattere prima contro le chiusure e le restrizioni imposte dallo stato di emergenza proclamato per la diffusione del Covid, poi con una lenta ripresa tra timori di contagi ed economia in fase calante, ora contro un caro bollette che di mese in mese impone sacrifici non indifferenti e che alcune settimane fa aveva spiegato portando ad esempio le ultime bollette di luglio e agosto che da un mese all'altro avevano fatto registrare un sensibile aumento a fronte di un consumo energetico inferiore. Ed è proprio contro il caro energia che nella serata di ieri, 13 ottobre, Luca Gallo e l'intero staff del 58 Lounge Bar, grazie al supporto dei ragazzi di Casa Surace che hanno allietato la serata, ha organizzato il primo evento musicale di gusto e elettricità a zero. In un'atmosfera suggestiva, resa magica dalla presenza di candele su tutti i tavoli e non solo, ad illuminare l'ambiente e la musica della fisa armonica e dello shaker, è stato possibile trascorrere una serata speciale che nell'obiettivo degli organizzatori voleva esorcizzare l'incubo caro bollette che sta mettendo in ginocchio tantissime attività commerciali. Una serata divertente all'insegna del gusto, con squisiti taglieri composti da una ricca varietà di prodotti locali come salumi, formaggi, frittatini e bruschette d'altro, ma anche dell'allegria e delle intense risate che hanno riempito il locale, regalando una serata diversa all'insegna dell'economia e della riduzione del consumo energetico in un'atmosfera suggestiva.